Sono il dottor Riso, fisiatra presso Villa Stuart Roma e mi occupo prevalentemente di traumatologia sportiva e dell'appalato osseo mio articolare. Sono stato per 14 anni medico del Catania Calcio responsabile della medicina sportiva e della riabilitazione negli atleti. Mi occupo ovviamente sempre della riabilitazione di protocolli riabilitativi in soggetti sia sportivi ma anche non. Abbiamo le migliori apparecchiature oggi sul mercato, abbiamo dalle onde d'urto della Storz che sono oggi molto quotate, alla Tecarterapia di ultima generazione, a trattamenti come anche lo zonoterapia che è assolutamente efficace soprattutto in determinati tipi di patologie.